Non ci aspettavamo che calciassi il rigore, è la prima volta? Sì, è sempre la prima volta, è capitato a 36 anni di tirare il primo rigore, sono veramente felice. Ringrazio il Miss che mi ha dato la fiducia, sono contento anche per il risultato per la squadra perché abbiamo fatto una buona partita. È stato lui a dirtelo di calciare, sì? No, no, c'era già nella lista, c'era Sergio, ma Sergio è riuscito, ero il secondo rigorista, è capitato a me, sono riuscito a fare i gol, sono veramente felice. Bisogna anche quella fascia da capitano che sei andato a calciare, no? La responsabilità di guidare il Chievo in questa sfida così importante? No, quello no, perché sono qua da tanto, ritengo tanto questa società, questa maglia, era una partita difficile come questa, come pescare, siamo riusciti a fare quello che ha detto il Miss e in un'ora di rigore lì era un'emozione veramente grande, sono riuscito a fare i gol e quella era la cosa più importante. Il gol più importante della tua carriera al Chievo? No, è un gol importante, sì, più importante, no, perché spero che sia ancora più avanti dei gol più importanti, però quasi oggi è stato un gol pesante dove siamo riusciti a sbroccare il risultato.